Non sei stato promosso o hai debiti formativi? Chiama l'Eurostudi che da 40 anni aiuta studenti in difficoltà, adulti e lavoratori a prendere il diploma con un paio di appuntamenti settimanali e con l'uso di dispense già spiegate e riassunte. Esame anche in autunno, prepariamo tutti gli indirizzi, in specie gli istituti professionali per i servizi alberghieri e per i servizi sociosanitari. Veniteci a trovare, uscita Teramo Ovest in zona Porta Romana e di sera anche qui in Corso San Giorgio 101 oppure chiamateci allo 0861 24 12 37 o al 349 22 10 118. Buone vacanze!